La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. Affinché il nostro cuore non diventi insensibile di fronte alla sapienza, all'amore che ci viene dalla parola di Dio e dalla persona di Gesù. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. La nostra vita spirituale è una realtà che deve crescere. è una realtà che deve crescere.